Europa dei popoli, Europa degli Stati. In questo meeting, anche con la mostra Sinfonia del Nuovo Mondo, un'Europa unita dalla Tantico agli orali, abbiamo voluto dare un grande spazio all'Europa. L'Europa come il luogo, l'idea dell'Unione Europea come il luogo dove è più possibile fronteggiare l'emergenza uomo, perché l'Europa nasce da un patrimonio di ideali in cui il valore di ogni essere umano è al centro, è la storia dell'Europa, è la storia dell'Unione Europea, come abbiamo già parlato nell'incontro col Presidente Letta. Un'idea di uomo non ridotta in cui riscoprire il ruolo della libertà di espressione, di educazione, di impresa, religiosa, insieme alla cooperazione tra i popoli e al desiderio di una pace duratura. Noi abbiamo visto, abbiamo documentato come questa è la chiave con cui è nata l'Europa e nella mostra si vede che questa è la chiave con cui può ripartire, riparte, innanzitutto dall'esperienza di ciascuno di noi e di tanti europei, perché questa storia nasce dagli uomini, gli statisti che l'hanno dato origine erano degli uomini, vive in studenti, imprenditori, uomini di cultura, uomini di chiesa, uomini di religione, che decidono di fare di questo spazio comune un luogo di costruzione. Ma, e questo mi sembra interessante, dati gli interlocutori che vado a presentare, è dentro un clima difficile per l'Europa, perché la crisi, la crisi globale, è stata da molti attribuita, anche in Italia, all'Europa. Non è una crisi particolare, ma è stata l'Europa che l'ha, come dire, generato o almeno accentuata. Allora, in questo incontro, Europa dei popoli, Europa degli stati, io pongo alcune domande, che sono domande comuni, che ho sentito anche in questi giorni, di chi presentava la mostra. Ma è vero o no che l'Europa porta, come dire, questi problemi? L'unione monetaria è un fattore che aiuta o un fattore che ostacola? È preferibile un'Europa a due velocità, un cammino comune di integrazione? È proprio possibile l'unità tra nord-europei e sud-europei, ma in qualche modo questo si sta spaccando? E ancora, ma è possibile in questa Europa una sussidiarietà verticale e orizzontale? È possibile perseguire ancora lo scopo di un welfare universalistico? Sono tante domande che abbiamo e sono domande cruciali, anche perché, come ci diceva il Premier Letta, ci avviamo l'anno prossimo, nel 2014, alle elezioni europee e il rischio di euroscettici che vincano è molto forte. Allora, quindi, per noi questo incontro ha un valore centrale in questo meeting e altrettanto centrale è eccezionale, direi, sono i relatori. Luis Miguel Poiares Maduro, ministro per lo sviluppo regionale della Repubblica Portoghese, grande costituzionalista che abbiamo già sentito ieri nell'incontro con... e Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, che già avremmo dovuto avere l'anno scorso, ma per un lutto familiare non ha potuto esserci e che è riuscito quest'anno a venire. Lo ringraziamo moltissimo per l'attenzione al meeting. Comincerà l'incontro con un intervento di saluto di Pasquale Valentini, segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica di San Marino, quindi sentiremo i nostri relatori. Buon pomeriggio a tutti e grazie, Presidente. Sono molto grato al meeting e nello stesso tempo onorato di poter testimoniare la vicinanza della Repubblica di San Marino a questo evento e al contenuto di questo incontro in particolare. Ritrovare oggi il senso dell'unità dell'Europa è un'urgenza non solo per l'Europa stessa, ma per il mondo intero che ha necessità di trovare nella civiltà che ha fatto l'Europa un punto di riferimento su cui costruire un nuovo equilibrio fra i popoli e le nazioni dentro una crisi che, prima che economica, è culturale. C'è bisogno, cioè, di recuperare i fattori che sono capaci di tenere unito l'uomo, la persona, perché sono questi i fattori che possono unire le comunità e i popoli e sono questi i fattori che possono far sì che l'unità sia frutto del dialogo e non della forza. Questa riflessione, poi, si colloca per San Marino in un momento particolare, in quanto il processo di integrazione europea ha assunto caratteri molto più cogenti ed implicazioni più concrete e stringenti rispetto al recente passato. Mi riferisco qui alla ricerca di una nuova forma di associazione che l'Unione Europea sta offrendo ai piccoli Stati e alla rinegoziazione dell'accordo Ecofin che ci vede protagonisti assieme ad altri paesi terzi come la Svizzera o il Liechtenstein. In questa ricerca, in questo percorso, San Marino si sente pienamente coinvolto e con sempre maggior consapevolezza avverte di poter avere un ruolo, di poter offrire anche un contributo. Quale possa essere questo contributo ce lo hanno ricordato negli ultimi tempi in maniera autorevole due grandi personalità che hanno fatto visita al nostro Paese. Sua Santità Benedetto XVI è il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Sua Santità ci ha ricordato che la nostra identità ha un'origine precisa e frutto di un'eredità che è la base della nostra originalità, quell'amore per la libertà che distingue il nostro popolo e che ha nelle radici cristiane il suo insostituibile fondamento. Nel 1296, Martino di Montecucco, umile montanaro analfabeta abitante di San Marino, chiamato a testimoniare in un processo su questioni di indipendenza e quindi di tributi, al giudice che gli chiedeva quid est libertas, che cos'è la libertà, con estrema naturalezza e rispondeva «Omine esse liberum, et abere sum, ed eo non tenere aliqui, nisi domino nostro Gesù Cristo». L'uomo nasce libero e possiede il suo e di questo non deve rispondere ad alcuno se non al nostro Signore Gesù Cristo. È questa coscienza, semplice ma sicura, la base di un'autonomia statuale che ha retto per secoli e ha fatto del nostro Paese un Paese di pace e di ospitalità. Ban Ki-moon ha rimarcato questa diversità, evidenziando come la piccola Repubblica del Titano, pur in un contesto di Paesi attanagliati da conflitti, ha saputo costruire una storia priva di guerre. non solo, ma il suo impegno è andato ben oltre, offrendo rifugio a coloro che numerosi fuggivano dai combattimenti, quasi centomila durante l'ultimo conflitto mondiale, compreso un numero significativo di ebrei, come documenta la mostra presente nel nostro stand. Ban Ki-moon è rimasto colpito dalla nostra tradizione di democrazia e ne ha tratto spunto per sottolineare come i piccoli stati siano portatori di una originalità che può costituire una specie di cartina al tornasole della capacità della comunità internazionale di organizzarsi nel rispetto delle identità presenti. Il leone possente ha una grande forza, ma un uccellino può volare. Con questa immagine tratta dalla natura, Ban Ki-moon ha voluto significare che tutti gli stati meritano le stesse opportunità di espressione a prescindere dalla loro dimensione, ricchezza o influenza geostrategica. Ora, con questa consapevolezza che definisce anche la responsabilità di cui ci sentiamo investiti in questo tempo, siamo impegnati a continuare il nostro lavoro di presenza in ambito internazionale. In particolare, accogliendo l'invito dell'Unione Europea, siamo impegnati in un percorso di maggiore integrazione che ci consenta di partecipare in maniera più significativa alle scelte comunitarie e conseguentemente ci apra nuovi spazi di operatività nel mercato interno dell'Unione. Guardiamo pertanto con estremo interesse ai lavori di questi giorni e siamo certi anche che da questo incontro partirà un rinnovato slancio di costruzione. È l'augurio sincero che formuliamo e di questo vi ringrazio. Grazie. Parola al Ministro Maduro. Vi ringrazio per l'invito per ritornare al meeting a parlare sull'Europa in un ruolo un po' diverso. Non sono più un accademico, sono un politico, ma con idee simili a quelle che ho espresso l'anno scorso. È un piacere particolare farlo con il Presidente Schulz che diceva prima con ragione che abbiamo molte delle stesse idee su quello che l'Europa deve fare anche se abbiamo una divergenza su quale è il partito giusto per farle. Devo dire, profitto per allertare il Presidente Schulz ci sono delle conseguenze politiche a venire al meeting a parlare dell'Europa perché l'anno scorso i due oratori erano io che era un mero professore accademico e Mario Mauro che era diputato nel Parlamento europeo. Entrambi abbiamo incarichi di governo oggi. Non so se questo vuol dire che il Presidente Schulz si deve preparare a altri incarichi politici. Siamo qui per vedere l'anno prossimo. Permettetemi che cominci con una provocazione che è anche una barzelletta che io spesso raccontava anche ai miei studenti sulla necessità di per studiare un tema un soggetto guardarlo con degli occhi diversi di una perspettiva totalmente diversa di quella tradizionale sulla quale tutti riguardano quello soggetto. C'è questa barzelletta di un signore che sta cercando l'orologio che ha perduto nel salotto e la moglie gli chiede cosa stai facendo? Sto cercando l'orologio che ho perduto nella camera da letto ma se l'hai perduto nella camera da letto perché lo stai cercando nel salotto? Ah c'è più luci nel salotto questo è un vizio un problema abituale nell'analisi accademica scientifica anche politica di molti problemi spesso per trovare una soluzione bisogna rovesciare la forma come guardiamo il problema e la questione bisogna uscire fuori della nostra zona di conforto intellettuale cercare di pensare in una materia di forma diversa di quella che la nostra cultura intellettuale ci leva ci porta a pensare su quello soggetto questo è così in molti materie su molti soggetti io ho un slide chiedo che forse lo possano mettere questo è la prima è l'unico slide che ho quest'anno l'anno scorso ho portato dei filmati ma oggi con l'incarico istituzionale che ho credo che i filmati erano troppo provocatori e questa è la prima camera digitale mai inventata è stata fatta dalla Kodak la Kodak ha inventato la prima camera digitale oggi è falita perché perché loro hanno visto questa camera digitale che avevano inventato e hanno detto no questo è troppo ingombriante non va a funzionare mai non funziona dobbiamo mantenere le camere tradizionali con la pellicola tradizionale non sono riusciti a anticipare lo sviluppo gli sviluppi possibili con questa camera come non l'hanno fatto hanno rimasti attaccati alla vecchia tradizione di produzione e di concezione della fotografia e hanno finito con il falimento non hanno riuscito a pensare oggi con la logica del futuro e per questo hanno falito vi poteva dare altri esempi immaginatevi che qualche anni fa dieci anni fa qualcuno veniva da voi e vi chiedeva di finanziare un progetto per una nuova enciclopedia e ci avevano due gruppi che vi chiedevano un finanziamento il primo vi diceva io ho questi ho mille licenziati accademici delle migliori università del mondo Harvard Oxford la Sapienza Pantillon Sorbonne tutti i grandi licenziati e accademici nel mondo fanno parte dell'equipo che scriverà la mia enciclopedia e vi chiedo il finanziamento e poi veniva un altro gruppo e vi chiedeva anche noi vogliamo fare un'enciclopedia e vi chiediamo il finanziamento e allora qual è il vostro progetto di enciclopedia ah no facciamo un sit un site online qualcuno viene può scrivere su qualunque soggetto quale credete avrebbe stata la vostra risposta quale avreste finanziato il primo non il secondo il secondo si chiama Wikipedia questa difficoltà che risolvere i problemi del futuro con una matrice culturale del presente non riuscendo a immaginare quello che è il futuro è una grande difficoltà anche nella politica e vorrei dire è una delle grandi difficoltà per l'Europa per trovare le risposte giuste oggi e allora quello che vi chiedo è un po' di fare un esercizio lasciando di lato un po' il cetisismo quando ho presentato alcune di queste proposte alla prima volta ancora come accademico mi ricordo una conferenza dove c'erano tanti altri accademici anche politici si discutivano gli euro bonds altre proposte e poi qualcuno faceva una proposta e diceva no questo non funziona per questo questo no e poi io era nell'ultimo nell'ultima sessione ho fatto le mie proposte che poi in buona misura hanno stato anche presentate al Parlamento europeo in un rapporto al Parlamento europeo e ho presentato qualcuno mi ha detto no questo sarà impossibile e la mia risposta ha stato abbiamo discusso un giorno e mezzo di tutte le vostre proposte impossibili possiamo discutere dieci minuti sulle mie proposte impossibili io credo che la soluzione politica economica per l'Europa dipenda di una proposta impossibile l'unica decisione che dovremmo fare nel futuro è quale delle proposte impossibili per l'Europa sarà possibile perché lo status quo anche quello è impossibile e come ho detto voglio fare con voi un po' come l'anno scorso un esercizio per capire dov'è la vera natura dei problemi europei e qual può essere le soluzioni per me il primo punto importante è capire che la natura della crisi economica finanziaria dell'Europa è anche una crisi della democrazia ma non perché la crisi finanziaria dell'Europa ci ha portato a una crisi democratica ma anche perché all'origine della crisi finanziaria economica dell'Europa ci sono dei problemi democratici due problemi fondamentalmente il primo è una delle ragioni delle crisi è sicuramente le politiche irresponsabili a livello dei bilanci a livelli economici di alcuni stati che poi hanno finito per coinvolgere tutti gli altri stati le responsabilità a livello di politica fiscale politica di bilancio di politica economica di alcuni stati ha in virtù dell'interdipendenza creata dall'Unione Economica Monetaria creato un effetto di moltiplicazione negli altri stati ha finito per coinvolgere tutti gli stati dell'Unione Economica Monetaria politica è anche un problema democratico perché questo ci dice che le politiche di bilancio le politiche sull'economia le politiche finanziarie di un stato hanno delle conseguenze per gli altri stati dell'Unione Economica e Monetaria e spesso le politiche del primo stato non prendono in conto queste possibili conseguenze in altri stati questo è un problema democratico quello che succede nel nostro stato oggi è anche prodotto delle politiche di altri stati in virtù di questa enorme interdipendenza che abbiamo nell'Unione Europea e secondo fattore molto importante nella crisi oggi non voglio discutere qual è il fattore più importante qual è la variabile che spiega di più la crisi che abbiamo è un problema democratico non degli stati in un contesto di integrazione ma dei mercati una delle cause anche della crisi o forse meglio uno dei fattori che ha aggravato la crisi finanziaria ha a che vedere con i flussi di capitali senza limiti soprattutto nel contesto dell'Unione Monetaria con la creazione di un'Unione Monetaria i flussi di capitali soprattutto hanno venuto di stati del centro per le stati della periferia europea mantenendo artificiosamente bassi le tassi di interesse e creando una bola creditissima che poi in alcuni stati ha condotto alla crisi quando c'è stato un momento di sfiducia dei mercati nella capacità di quelli stati di pagare i su titoli di stati questo ha creato una specie di run sullo Stato simili a run on the banks che ha aggravato ancora di più la crisi anche qui questo può essere costruito come un problema democratico perché questi movimenti di capitale non vengono più soggetti a un controllo democratico non sono più suscettibili di controlli democratici dalla parte dello Stato e non sono ancora soggetti a veri controlli democratici della parte della propria Unione Europea questo problema democratico dei flussi di capitale dei mercati di capitale non può essere più corretto di un Stato in un contesto di unione monetaria l'idea è impossibile concepire un mercato interno e molto meno un'unione monetaria soggette a controlli nazionali sui capitali invece dovrà essere un'unione europea a ristabilire dei controlli democratici su questi processi anche la disciplina fiscale che abbiamo oggi in un'unione europea imposta ai Stati con tutte le regole che cercano di controllare i bilanci dei stati cerca di corrigere un problema democratico il primo problema democratico di cui ho parlato vuol dire il rischio di quello che io chiamo delle esternalità democratiche di un Stato in un altro Stato il rischio che le politiche economiche finanziarie di un Stato hanno delle conseguenze negative in un altro Stato la disciplina fiscale che abbiamo in Europa cerca di correggere questo indipendentemente dei meriti politici economici della disciplina fiscale come quella che abbiamo nello trattato di stabilità dell'unione europea oggi indipendentemente dei meriti del nostro giudizio sui vantaggi e svantaggi i costi associati a questa disciplina fiscale due cose mi sembrano chiare oggi primo questa disciplina fiscale è necessaria a ristabilire sia la fiducia dei mercati ma anche a recuperare la fiducia mutua fra gli stati europei e fra i cittadini di questi stati l'idea che tutti giocano d'accordo con le stesse regole ma mi sembra anche chiaro che questa disciplina fiscale che un'Europa basata soltanto sulla disciplina fiscale sarà insufficiente per affrontare la crisi attuale in Europa un'Unione fiscale richiede disciplina fiscale ma anche capacità fiscale un'Unione europea basata soltanto sulla disciplina fiscale minerebbe la legittimità sociale e politica dell'Unione europea perché o i processi politici nazionali riuscirebbero a preservare la propria autonomia e metterebbero così in questione gli efficaci di queste norme di disciplina fiscale europea oppure questa disciplina fiscale questa disciplina finanziaria dell'Unione europea costituireva un spazio non politico a disciplinare i processi politici nazionali mettendo in questione la stessa democrazia nazionali i dibattiti che abbiamo oggi in Europa sembra in realtà metterci prigionieri di questo dilemma fra un'Unione ancorata esclusivamente sulla disciplina che prima o poi entrerebbe in conflitto distruttivo con le democrazie nazionali o un'Unione dipendente prigioniera di un negoziato permanente fra stati membri fra questa democrazia nazionale che sia incapace di fornire una possibilità di governo efficace e legittima io penso possa esistere un'alternativa ma perché per trovare questa alternativa dobbiamo soddisfare alcune condizioni prima l'Unione europea ha bisogno di una vera autorità politica infatti senza una vera autorità politica nell'Unione europea non abbiamo le condizioni di effettività e credibilità capaci a un governo dell'Unione monetaria e senza questo non ha fiducia dei mercati per esempio ma abbiamo anche bisogno questa autorità politica chiara dell'Unione è anche importante per avere vera responsabilità politica all'interno dell'Unione sia con l'istituzione europea sia con gli stati membri il carattere troppo diffuso dell'autorità politica europea non sapere veramente chi è responsabile di chi chi governa chi comanda chi decide non sapere questo questo carattere troppo diffuso dell'autorità politica europea rende l'individuazione della responsabilità virtualmente impossibile permettendo un doppio rischio di manipolazione spesso gli attori politici nazionali riescono a fare a livello europeo cose che non possono fare a livello nazionale culpabilizzando le istituzioni europee ma di più in più anche succede che le istituzioni europee sono consapevole che la successiva applicazione delle proprie scelte politiche da parte del governo nazionale possono fare eludere la sua stessa responsabilità e c'è questo doppio rischio a livello delle responsabilità politiche in Europa e allora dobbiamo avere un'autorità politica chiara per permettere una responsabilità politica chiara dobbiamo anche ristabilire la fiducia reciproca tra gli stati e tra gli cittadini oggi alcuni cittadini di alcuni stati pensano che stanno pagando gli errori e persino gli ingani commessi da altri stati ma dall'altro lato i cittadini di questi stati pensano che gli altri non fanno prova di sufficiente solidarietà invece stanno imponendo loro una forma di punizione collettiva per evitare questa concessione distruttiva della base dell'integrazione europea le regole sia le regole della disciplina che è necessaria sia la solidarietà che anche quella è necessaria devono essere correlati agli obiettivi più ampi dell'integrazione europea e a una equa distribuzione dei sui costi benefici per questo dobbiamo anche rendere visibili ai cittadini i benefici e le conseguenze democratiche dell'interdipendenza perché la percezione delle conseguenze democratiche dell'interdipendenza la percezione che quello che io faccio nel mio Stato ha un impatto in un altro Stato renda accettabili le regole della disciplina di quello che possiamo fare a livello nazionale ma anche la percezione dei benefici generali prodotti del processo di integrazione rendono più accettabile l'esercizio di solidarietà per questo è anche molto importante legittimare la solidarietà finanziaria che è necessaria nell'Unione Europea correlandola alla richiesa generata dell'integrazione europea e non alla richiesa di alcuni Stati l'idea che l'Unione Europea è un strumento per trasferire la richiesa di alcuni Stati ad altri Stati è un albero velenoso dobbiamo scindere la solidarietà finanziaria e i trasferimenti finanziari tra gli Stati membri invece la solidarietà finanziaria nell'Unione Europea deve essere frutto del benessere della richiesa che è prodotto del processo di integrazione europea l'ultima condizione che abbiamo bisogno di riempire è quella di avere un'integrazione politica ma un'integrazione politica basata su un vero spazio politico europeo perché un'integrazione politica europea basata sugli spazi politici nazionali che è quello che abbiamo già oggi soffrirà sia della mancanza di quella autorità politica chiara che io difeso sia sarà incapace di riscepire di capire le ricadute le conseguenze democratiche dell'interdipendenza in Europa e perché spesso il problema delle decisioni a livello europeo è che come le decisioni dipendono diversi leader nazionali che a sua volta rispondono a incentivi politici determinati dai suoi spazi pubblici nazionali e queste non capiscono le conseguenze dell'interdipendenza gli incentivi all'azione dei leader politici in Europa sono quelli sbagliati non corrispondono a quello che è necessario in un contesto di interdipendenza vorrei concludere con due passi concreti due proposti concreti che mi sembrano possono essere dei passi importanti per rispondere a queste condizioni io credo che le due cose che possiamo fare possiamo fare anche nel contesto dei trattati esistenti e che potevano cambiare già il paradigma dell'Unione Europea e del suo modello di governo politico economico sono di un lato dei veri risorsi propri associati a un bilancio europeo o della zona euro con una vera capacità fiscale finanziaria accanto alla disciplina finanziaria che anche quella è necessaria sia una Commissione europea che sia un vero governo dell'Europa con una legittimità associata molto più direttamente a una vera competizione elettorale il bisogno di un'Europa con una capacità finanziaria importante è fondamentale sia perché l'Europa abbia le politiche in grado di correggere le assimetrie che dirbuliscono il buon funzionamento dell'Unione Monetaria sia per affrontare le emergenze finanziarie come quelle che abbiamo oggi per me un bilancio europeo è un strumento migliore che gli euro bonds perché il bilancio europeo sarà associato alle risorse proprie dell'Unione europea non a trasferimenti fra stati non a trasferimenti di rischi fra stati membri la solidarietà attraverso i trasferimenti tra gli stati non solo è limitata ma intacca altresì la legittimità sociale democratica dell'Unione per me quello che rendereva possibile un bilancio più grande dell'Unione europea un aumento del suo bilancio potrebbe di qualche forma contraintuitivamente anche servire a legittimare l'Unione e vi devo spiegare questo un po' meglio perché è contraintuitivo un'autorità politica deve essere comprensibile per i suoi cittadini non solo per come si rappresenta ai suoi cittadini ma anche per quello che fa un aspetto basilare di questo concerne sicuramente le modalità di raccolta delle risorse e l'organizzazione delle imposte il modo con cui vengono raccolte le risorse all'interno di un sistema politico e quello attraverso il quale viene allocato il gettifo fiscale spiegano ai cittadini le regioni della celta di tale sistema e cosa significa farne parte vuol dire le risorse gli imposti siano anche un strumento di dimostrare le condizioni i criteri le ragioni della solidarietà all'interno di una comunità politica in questo senso le risorse europee le risorse proprio europee non devono essere giustificate soltanto in una base pragmatica perché l'Unione ha bisogno di fondi ma devono essere anche legittimate come necessarie a evidenziare le ragioni dell'esistenza dell'Unione è quindi fondamentale che l'Unione sia vista come un soggetto che ridistribuisce la sua richesa e non semplicemente quella dei suoi stati membri è altresì essenziale che questa solidarietà sia collegata al diverso grado con i quali diversi gruppi sociali beneficiano dell'integrazione europea in particolare del mercato interno il secondo passo e con questo concludo visci rispetto al defice democratico europeo e al ruolo dell'elezione per il Parlamento europeo per la Commissione europea il vero defice democratico europeo del quale tanto si parla a mio parere si basa nell'esistenza di un spazio politico europeo in eccessivo affidamento ai spazi politici nazionali che come ho detto producono gli incentivi sbagliati al funzionamento dell'Unione europea perché non riescono un'organizzazione di politica basata soltanto in diversi spazi politici nazionali non riesce a capire la natura dell'interdipendenza oggi in Europa il problema democratico d'Europa riguarda anche come ho detto anche un problema di efficacia di una vera autorità politica non c'è autogoverno che è il principio fondamentale della democrazia l'idea di autogoverno senza capacità di governare in questo senso l'Europa ha anche bisogno di un'autorità politica maggiore in questo momento in Europa abbiamo una specie di paradosso in particolare sul ruolo della commissione europea di un lato la commissione europea per esempio ha perso molti poteri di leadership politica dell'agenda politica in Europa ma dall'altro lato di più in più vengono trasferiti il potere per l'Unione sulle politiche nazionali dello Stato e sono consessi alla commissione europea che controlla di più in più i processi democratici nazionali questo è molto rischioso e pericoloso perché la commissione di più in più è vista come determinando la politica nazionale senza avere una legittimità politica propria senza dare una possibilità di scelta politica a livello della commissione europea per me un passo molto importante in questo senso è la possibilità di che si presentano nelle prossime elezioni al Parlamento europeo diversi candidati appoggiati da diversi gruppi politici europei questo creereva una vera competizione elettorale quello che rende le elezioni politiche interessanti a livello nazionale dei stati membri è perché noi sappiamo che abbiamo una celta fra diversi possibili capi di governi fra diversi possibili governi in Europa la trasformazione dell'elezione del Parlamento europeo in una celta in una commissione elettorale per la commissione ci offrirebbe questo e un'altra conseguenza sarebbe che tutti questi gruppi politici europei dovrebbero poi presentare il suo candidato ma anche una plantaforma politica un programma di governo in appoggio di questi candidati e questa plantaforma politica doveva essere genuinamente europea non poteva essere questo sarebbe l'interesse di Portugale che sarebbe soddisfatto quello l'interesse della Germania quello l'interesse d'Italia dovrebbe essere una politica basata su temi veramente europei un'altra conseguenza importante è che questi presenti della commissione europea avremmo un'autorità politica un capitale politico che nessun altro presidente della commissione ha avuto e questo le dareva una capacità unica di perseguire le proposte contenute in quella plantaforma politica questo è veramente un cambiamento di paradigma ma è un cambiamento di paradigma che credo sia fondamentale in un'Europa democratica i cittadini devono poter divergere sulla deguesa delle politiche con le quali rispondere all'attuale crisi economica e finanziaria se no l'unica alternativa che ramirà loro sarà quella di essere a favore o contro l'Europa se non permettiamo ai cittadini di discutere di diverse concessioni d'Europa diverse politiche per l'Europa l'unica scelta che le lasciamo è essere a favore o contro l'Europa questo livello di congiungimento da parte di cittadini di molti stati sull'Europa è già visibile paradossalmente nell'interesse suscitato sollevato di alcune elezioni nazionali io mi ha fatto molta impressione quando le ultime elezioni francese sarò sicuro nelle prossime elezioni tedesche sarà lo stesso nelle ultime elezioni francese in portogale le televisioni informativi hanno trasmesso diretto indiretto il dibattito fra i diversi candidati presidenziali francesi e probabilmente sarà lo stesso con le elezioni germane le dibattiti elettorali tedeschi trasmessi diretti con traduzione diretta in portogallo perché perché i cittadini portoghesi capiscono che quello chi sarà il presidente della francia chi sarà il prossimo chancellor della germania è importante per il portogallo questo è rivelatore ma solleva anche un rischio un rischio che i cittadini vedano le loro viti condizionate delle politiche nazionali in cui non hanno voci in capitolo perché i portoghesi non possono votare nelle elezioni francese o nelle elezioni germane e l'unica alternativa possibile e con questo concludo è dunque quella di offrire questa voce a livello europeo grazie parola al presidente schulz cari amici la differenza tra un ministro portugese e un presidente tedesco del parlamento europeo e il ministro portugese parla perfettamente italiano il nostro meeting Mario Mauro il mio amico e collega del parlamento europeo mi aveva già invitato l'anno scorso a dire la verità purtroppo a causa di un luto familiare non sono potuto venire l'anno scorso me ne dispiaccio e quindi proprio per questo sono ancora più contento di essere qui quest'anno oggi per partecipare a questa discussione e per spiegarvi la mia opinione per dirvi come io vedo l'Europa del futuro come sarà questa Europa l'Europa almeno come me la immagino io comincio prima di tutto con quello che ha appena detto il collega Maduro io trovo che dobbiamo parlare di campagne elettorali e per la campagna al Parlamento europeo non dobbiamo parlare usando il congiuntivo dobbiamo invece parlarne concretamente il successore di José Manuel Barroso come presidente della commissione esecutiva dell'Unione quindi il capo del governo dell'Europa praticamente colui che ha la funzione esecutiva più alta di tutta l'Unione europea questa persona sulla base del trattato di Lisbon dunque il trattato dell'Unione europea che adesso è in vigore bene questo presidente della commissione europea futura deve sarà eletto anche tramite il Parlamento europeo la prossima volta il trattato è chiarissimo il consiglio quindi i capi di governo fanno al Parlamento una proposta dopo aver consultato il Parlamento il Parlamento ben inteso e andando a rispettare i risultati delle elezioni europee questo sta scritto nel trattato quindi la logica di questo trattato prevede anche che le principali famiglie politiche europee dunque i cristiano democratici e conservatori i social democratici i liberali i verdi queste famiglie che tutti questi potranno presentare un candidato comune un uomo una donna che dimostrerà di poter svolgere questa funzione in Europa perché il lavoro che deve fare un presidente di una commissione non riguarda il presidente del consiglio letta riguarda ogni singolo cittadino e cittadina dell'Italia e non riguarda neanche solo la cancelliera Merkel oppure il presidente francese Hollande riguarda tutti voi ogni singolo cittadino tedesco ogni singolo cittadino francese proprio per questo io ritengo che ogni cittadino dell'Europa ogni singolo cittadino a prescindere che siamo in Francia Germania o Italia ovunque andando a votare alle elezioni europee per il Parlamento europeo l'anno prossimo andrà ad avere un impatto e a decidere anche sul presidente della commissione i partiti politici europei hanno già deciso così i socialisti presenteranno un candidato i socialdemocratici e so che anche il PPA presenterà un candidato e avremo così l'opportunità di far sì che anche in Italia questi candidati queste candidate si presenteranno al popolo italiano affinché voi tutti i cittadini di questo paese finalmente potete andare a codecidere ad avere un impatto diretto su quello che accade a livello europeo a livello esecutivo a Bruxelles questa è una parte importantissima della democrazia europea di cui abbiamo un grandissimo bisogno carissimi signore e signori grazie l'Europa è un'idea l'Europa è un'idea che si basa su solidarietà e sul rispetto rispetto dei popoli prima di tutto gli uni con gli altri solidarietà dei popoli gli uni con gli altri però non solo dei popoli gli uni per gli altri è anche un'idea del rispetto tra le singole persone rispetto tra le persone che vuol dire vuol dire che ogni uomo ed ogni donna a prescindere da dove vengono a prescindere da quale religione hanno quale credo a prescindere dalla loro nazionalità a prescindere dal lavoro che fanno a prescindere che siano ricchi o poveri a prescindere dal colore della loro pelle ogni singola persona che vive in Europa merita lo stesso rispetto e uno dei principali problemi che abbiamo attualmente in Europa è proprio che parliamo sempre solo di cifre di numeri parliamo sempre solo di strutture quando finalmente parleremo del ruolo delle singole persone in Europa per me l'idea dell'Europa è proprio quella che prevede che ci sia una comunità di popoli e di persone in Europa laddove il singolo l'individuo sia al centro del dibattito e dell'azione politica dobbiamo in Europa discostarci finalmente dalle cifre e passare al rispetto per la persona l'idea della quale parlo io bene questa idea è nata già nel ventesimo secolo proviene da lì questo ventesimo secolo ha avuto due parti principali la prima parta dal 1900 al 1950 andiamo a guardarci questo cinquantennio questo prima metà secolo quali erano i concetti le idee guida di questa prima metà del secolo l'odio la guerra il razzismo rivendicazioni di potere esagerate atteggiamento imperialistico nella prima guerra mondiale 7 milioni di persone hanno perso la vita soldati di tante nazioni che sono morti che erano stati formati ovviamente nello spirito del diciannovesimo secolo e che credevano agli ideali del campo di battaglia e dell'onore invece sono morti durante la battaglia e che sono finiti nelle nuove tecnologie militari del ventesimo secolo purtroppo trascinati lì la seconda guerra mondiale poi più tardi 55 milioni di morti 6 milioni di ebrei sterminati in Europa con Auschwitz che è stato il culmine della vergogna nella storia della civiltà prima metà di quel secolo ben inteso la seconda metà che cosa è stata i trattati europei l'idea secondo cui Stato e popoli potevano lavorare in modo transfrontaliere scavalcando le frontiere perché sapevano quando lavoriamo al di là delle frontiere come stati come nazioni se creiamo organi comuni e lavoriamo in modo da promuovere la fiducia reciproca in modo da poterci anche controllare a vicenda se facciamo questo se andiamo al di là delle frontiere creiamo organi comuni perché sappiamo che insieme diventiamo più forti che non da soli questa era stata l'idea dell'Europa che qua in Italia era stata rappresentata da De Gasperi in Germania tramite Adenauer in Belgio da Spac questa è stata l'idea di Adenauer di Charles de Gaulle le loro idee i loro ideali di grandi uomini e di grandi donne che avevano avuto il coraggio erano stati uomini e donne che avevano avuto una vita molto diversa dalla mia ad esempio io sono nato nel 55 forse sarò la prima generazione del mio paese la Germania che potrà dire di se stesso che fin dalla nascita e fino alla morte non ha visto nessuna guerra solo prosperità e ricchezza solo benessere ho conosciuto non ho mai dovuto patire la fame non ho mai conosciuto la povertà il mio mio padre era nato nel 12 era un bambino all'epoca della prima guerra mondiale poi nella seconda guerra mondiale è stato soldato questa è la differenza tra la generazione di mio padre dei miei genitori e Dio il sottoscritto è tra la mia generazione tutta un'altra vita l'idea di Europa iniziale era stata proprio quella di dare una risposta storica una risposta storica della seconda metà del ventesimo secolo per contrastare quello che era accaduto nella prima metà anziché odio rispetto anziché guerra pace anziché povertà benessere anziché strapotere cooperazione e adesso io vi faccio la seguente domanda perché a noi europei ed europee noi perché non ci crediamo più secondo me l'idea dell'Europa se ci pensate la principale conquista degli ultimi cent'anni è un'idea straordinaria e quindi noi dobbiamo lottare e difendere quest'idea ideale di Europa perché cari amici e cari amiche quest'idea adesso corre dei rischi è in pericolo è in pericolo quest'idea io faccio il politico europeo di lavoro e dico ai miei colleghi a livello europeo lo dicono dico la stessa cosa che dico ai colleghi nazionali stiamo attenti guardiamoci bene chiunque critichi l'unione europea ogni critico e se riteniamo chi critica un euroscettico no e in realtà non tutti quelli che criticano l'Europa sono euroscettici sono contrari all'Europa anch'io esercito faccio delle critiche all'unione europea però sono un grande fautore sostenitore dell'idea e degli ideali dell'Europa non ha senso ovviamente di parlare per forza di queste cose sempre di dire che tutto è bello l'unione europea si trova in una situazione difficile noi siamo il continente più ricco del mondo siamo il continente più ricco del mondo in assoluto in Europa e ci permettiamo ciò nonostante di far sì che in certi paesi di questo continente ricchissimo il 50% dei giovani e delle giovani sono senza lavoro sono disoccupati è una vergogna gravissima e non è degna dell'Europa questa vergogna vi voglio raccontare una breve storia adesso lo dico con rispetto e che una cosa che c'entra con la situazione dell'Unione Europea un anno fa a Madrid ho incontrato un gruppo di giovani di età più o meno dai 18 ai 30 anni li ho incontrati alcuni con due lauree con due titoli universitari tutti senza lavoro tutti poi ho discusso con una giovane una ragazza di 26 anni mi sono fermato a parlare questa giovane era architetta e psicologa due lavori due lauree io mi ha detto ho proprio la laurea come architetta e come psicologa e io le ho detto strana combinazione strano abbinamento perché proprio ha pensato di studiare proprio questo strano abbinamento architettura e psicologia e lei mi ha detto gli architetti non sanno nulla della psicologia per questo costruiscono case dove nessuno riesce a viverci ok e poi le ho chiesto allora perché sei divenuta psicologa e lei mi ha detto i tecnici non hanno idea della psicologia e gli psicologi non hanno idea della tecnica però viviamo in un'epoca di grande tecnologia di tecnica questo secolo è proprio l'epoca della tecnologia solo per questa risposta secondo me questa giovane ragazza avrebbe meritato un lavoro però la ragazza mi ha poi detto in Spagna per me non c'è posto quindi devo andarmene devo emigrare devo andarmene in America Latina io non le ho detto che l'ambasciatore del paese latinoamericano nel quale voleva trasferirsi qualche giorno prima di questo incontro aveva detto a me personalmente che il suo paese nel prossimo futuro avrebbe chiuso le frontiere agli europei ripeto siamo il continente più ricco del mondo ed ogni anno ogni anno abbiamo 10 15 20 nuovi milionari in più nel nostro continente un sacco di ricchi e invece una giovane donna così brillante deve lasciare il suo paese per andarsene in America Latina allora non mi stupisco che i giovani non abbiano più fiducia nell'Unione Europea non c'è da meravigliarsene siamo un continente ricchissimo ripeto però la ricchezza non è distribuita in modo equo e giusto e la distribuzione ingiusta della ricchezza e della prosperità la distribuzione ingiusta della ricchezza è una mancanza di rispetto soprattutto proprio per questo abbiamo bisogno nell'Unione Europea di renderci conto di comprendere che siamo forti solamente insieme tutti congiuntamente se i ricchi pensano è sempre così se loro pensano va avanti sempre così sempre più soldi invece coloro che non hanno niente meno ambiente che non hanno un avvocato che li difende però si sbagliano non è così perché non andrà sempre avanti così non continueremo e non potremo più continuare ad accettare di avere un sistema finanziario in Europa dove l'economia finanziaria sta a guardare senza nulla fare e sta a vedere che l'economia reale non si rimette in moto il principale problema delle piccole e medie imprese compreso in Italia è l'accesso al credito ragionevole un buon credito in Grecia e tra l'altro proprio anche in Portogallo e in Spagna ci sono delle banche che lavorano con tassi di interesse di 0,5% che possono prendere a prestito la banca centrale europea ad un tasso dello 0,5% e lo fanno per la verità prendono i soldi della banca europea però questi soldi li investono non più non nell'economia reale del loro paese bensì con questi soldi vanno sulle piazze finanziarie e fanno speculazioni con quei soldi il piccolo imprenditore di Bologna ad esempio il piccolo imprenditore di Rimini che ha bisogno di investire che ha bisogno di credito non riceve i prestiti al tasso dello 0,5% anzi spesso non glielo danno il prestito perché le banche dicono no ti diamo dei soldi solo se ci dai delle garanzie delle sicurezze in un ordine di grandezza che nessuna impresa ormai può dare chi può dare garanzie e sicurezze così grandi fino a che punto potremo continuare a tollerare questo quanto ancora possiamo tollerare questa situazione ovvero che abbiamo a disposizione enormi quantità di denaro ma che questo denaro non arriva non raggiunge coloro che ne hanno bisogno per gli investimenti per lavorare nel mondo e nell'economia reale perché proprio lì nelle piccole e medie imprese lì sì che c'è la possibilità di creare posti di lavoro posti di lavoro di cui abbiamo un gran bisogno e che molto probabilmente potrebbero andare a questa giovane generazione super qualificata che avrebbe diritto di lavorare in questo continente non andrà più avanti così ve lo dico non andrà avanti così perché se vogliamo ripristinare la pace sociale in Europa dobbiamo soprattutto risolvere i problemi del credito e dell'economia in Europa uscire da questo stallo e questi che qui faccio un appello quindi mi rivolgo a tutti gli organi nazionali qua in Italia ma anche in Europa chiedo a tutti non dobbiamo continuare a parlare del risanamento delle banche lo dobbiamo fare ben inteso anche questo è importante dobbiamo però anche discutere del nostro sistema finanziario del nostro sistema bancario in modo che i soldi vengano finalmente messi a disposizione di chi ne ha bisogno che i soldi vengano investiti nell'economia reale reale bisogna darlo chiaramente questo messaggio e per dirlo in modo ancora più chiaro i redditi che provengono da speculazioni da giochi speculativi va bene sono belli per quelli che li incassano e li intascano però 59-60% no per il 96-97% delle persone però non è così non sono quelli che li intascano quindi se vogliamo ripristinare la fiducia nell'Europa se vogliamo migliorare serve una riforma profonda del nostro sistema finanziario il ministro il ministro ha detto un'altra frase molto importante noi tutti ci guardiamo reciprocamente alle rispettive elezioni è chiaro che il risultato il 22 settembre in Germania avrà un impatto sulla Germania è logico ma avrà un impatto anche sull'Italia avrà un impatto anche sulla Francia avrà una ripercussione su tutti i paesi noi tedeschi abbiamo guardato attentamente le elezioni italiane come se fossero state elezioni tedesche ed è così ed è così l'Italia è un membro del G8 l'Italia appartiene alle otto più grandi economie del mondo otto superpotenze l'Italia è uno dei paesi industrializzati più importanti del mondo è chiaro è chiaro che la stabilità dell'Italia è finisce con l'essere la stabilità della Germania della Francia per cui ho un invito da rivolgervi una preghiera abbiamo bisogno dell'Italia abbiamo bisogno di voi l'Italia è sia il paese meraviglioso dove splende sempre il sole tranne il giorno che vengo io a Rimini dove diluvia per i tedeschi l'Italia già dai tempi di Goethe era un paese del sogno un paese meraviglioso l'Italia è un paese straordinario un grande paese la nazione italiana è una grande nazione lasciatelo dire e non lo chiedo perché voglio lusingarmi e avere il vostro avere il vostro complimento non è quello lo dico perché ne sono profondamente convinto l'Italia è un paese che ha una costituzione nella quale c'è al primissimo posto il valore del lavoro è fondata sul lavoro all'inizio della costituzione italiana si dice che è un paese dove la dignità dell'uomo deve essere sempre al centro di tutto l'Italia è un paese che per la democrazia in Europa nonostante la sua storia che ha sempre portato avanti ha guidato la democrazia in Europa ed ha tanto contribuito e quindi l'Italia è veramente un pilastro dell'Europa ci serve proprio per questo un'Italia stabile senza un'Italia stabile non ci potrà mai essere un'Europa stabile e voglio dirvi un'altra cosa voglio mettere in guardia tutti coloro che continuano a parlare di problemi economici l'Europa che vogliono dividere un'Europa tra Europa del nord e del sud al nord si sta tutti bene al sud va tutto male al nord va tutto bene perché lì si lavora c'è efficienza e al sud va male va tutto male perché lì non c'è efficienza se c'è un tasso alto di disoccupazione se c'è un alto indebitamento deficit statale se c'è recessione economica se c'è appunto disoccupazione recessione e disavanzo allora i parametri sono per l'Europa del sud allora la Gran Bretagna diventa un paese del Mediterraneo io io credo profondamente che questo paese abbia la forza di superare la crisi economica e finanziaria in cui si trova lo credo e ne sono convinto perché gli italiani e le italiane sempre ogni volta che c'è stata una crisi particolarmente acuta hanno sempre tirato fuori la creatività si sono sempre dati da fare sforzati e usato una creatività che appunto che li ha fatti concentrare che li ha fatti lavorare per capire che lo Stato è a disposizione di ogni singolo cittadino in modo che ogni cittadino si senta tutelato in modo che ogni singolo cittadino e cittadina si senta preso sul serio in modo che le istituzioni pubbliche siano lì per servire i cittadini e questo è quello che dobbiamo fare anche in Europa l'Europa non è fine a se stessa l'Europa è uno strumento lo ha appena detto il Ministro Maduro lo ha detto giustamente l'Europa è uno strumento per raggiungere qualche cosa di cui abbiamo tutti molto bisogno riconoscere che non dobbiamo mai lavorare gli uni contro gli altri bensì sempre gli uni con gli altri gli uni verso gli altri la Repubblica Federale Germania è il mio paese raggiunge il 35% del suo PIL tramite le esportazioni noi siamo campioni dell'esportazione questo sì il 60% di queste esportazioni finiscono nel mercato interno dell'Unione Europea uno dei principali paesi del mercato interno è l'Italia stessa se va male all'Italia va male alla lunga anche alla Germania va male anche da noi e se va male da noi va male anche all'Italia siamo interconnessi per cui ci deve andare bene a tutti dobbiamo stare bene tutti e questo si basa sulla cooperazione economica buona politica sociale buona politica finanziaria in Europa per tutti e quindi questa è la mia risposta alla domanda che era stata sollevata proprio in questo panel in questa sessione di che Europa abbiamo bisogno per il futuro abbiamo bisogno di un'Europa che abbia ben chiare le idee sul fatto che 500 milioni di persone provenienti da 28 paesi diversi che rappresentano il continente più ricco del mondo bene che tutti questi se collaborano e se si stanno vicini se condividono le cose le fanno in comune se sono disposti ad essere solidali se sono così forti da riuscire a far sì che con altre regioni del mondo riescono a interagire allo stesso livello con altre regioni del mondo voglio difendere io voglio difendere i nostri valori i nostri valori quelli della giustizia sociale i nostri valori quelli del rispetto la libertà di opinione la libertà della scienza la libertà degli insegnamenti degli insegnanti e ovviamente il divieto della tortura l'abolizione della pena di morte il diritto di sciopero e la libertà di assemblea di riunirsi vorrei che questi valori non vengano in nessun caso messi in pericolo messi a repentaglio e che quelli nel mondo coloro nel mondo che che non vogliono rispettare questi valori che che spengono internet quando non vogliono che ci sia nessuna opposizione le donne e i bambini che lavorano 40 ore al giorno 14 ore al giorno per un dollaro in fabbriche tremende che alle volte vanno in fiamme e loro non hanno neanche una via di fuga da cui scappare oppure stati dove il contadino che si lamenta che nel piccolo fiume dietro la sua fattoria ci sono veleni nell'acqua questo contadino magari viene torturato e ucciso e viene ritrovato da qualche parte buttato lì lontano da casa sua voglio che queste cose non ci siano e voglio che in Europa siamo così forti perché in Europa lavoriamo tutti insieme e ci rendiamo forti a vicenda perché ci sia una concorrenza in questo mondo in cui ci siamo che però noi non dobbiamo essere dipendenti da questa concorrenza al punto di dover rinunciare ai nostri valori è chiaro che e ovviamente ci sono altri continenti del mondo che riescono a produrre in modo meno caro in modo più economico però perché lo fanno perché non ci sono salari che meritino di essere chiamati stipendi o salari perché non c'è il diritto di sciopero perché c'è la tortura perché si viene uccisi perché le opinioni vengono represse e messe a tacere perché si viene sfruttati perché le risorse naturali vengono sprecate fino all'estremo se i regimi autoritari se gli sfruttatori se i dittatori alla lunga continueranno ad essere più economici e più concorrenziali delle democrazie allora le democrazie perderanno per cui in questo ventunesimo secolo la forza e la comunità delle democrazie devono farsi forza insieme mettendosi insieme per poter dire a tutti che chi è con noi e chi vuole avere a che fare con noi chi vuole avere accesso ai nostri mercati democratici dovrà rispettare i nostri valori non è un imperialismo europeo questo ben inteso non è un imperialismo europeo questa è la difesa dei nostri valori tramite una forza comune e in questo modo riusciamo a portare anche libertà e rispetto in altre regioni di questo mondo laddove ci sono continuano ad esserci persone che vengono ridotte in schiavitù che vengono private dei diritti che vengono sfruttate in modo vergognoso proprio per questo la mia Europa è un'Europa del rispetto e della collaborazione è il rispetto ovviamente che deve essere prioritario un rispetto della collaborazione dei popoli e delle nazioni al di là di ogni frontiera perché sappiamo che insieme siamo molto più forti che da soli e vi ringrazio tre brevi conclusioni a questa a questa discussione la prima abbiamo sentito dalle parole del presidente Schulz quello che abbiamo cercato di esprimere nella mostra questi ultimi 50 anni e l'Europa di cui stiamo perdendo la cognizione e il valore sono una conquista che ci permette di vivere così magari lo si capisce avendo appunto essendo della generazione del presidente Schulz devono capirlo anche i più giovani per cui è scontato che non ci siano più i due blocchi il muro e che ci sia la pace mentre questo non è scontato allora questa unità è un fattore veramente importante condizione di questo basta pensare alla guerra jugoslava per capire come basta poco perché la guerra torni dalle nostre parti secondo passaggio che abbiamo sentito sia dal professor ministro maduro e dal presidente Schulz senza l'esperienza non si va da nessuna parte molti nella mostra chiedono ma che in esso c'è tra i costituenti e l'esperienza di ciascuno di noi non è poco non è insufficiente parlare delle esperienze dei singoli cittadini dei lavoratori degli imprenditori degli studenti senza l'io che sostiene questa unità come diceva De Gasperi finisce tutto e infatti un po' sta finendo nelle nostre concezioni che prendono lo spunto dai leader populisti per dire che non serve a niente c'è un'esperienza dell'io che ha dentro l'idea di totalità l'idea di universalità l'idea di superamento degli stati in cui vive questo spirito europeo perché è l'idea di un uomo non ridotto allora questa seconda parte della mostra e questa esperienza quotidiana dal CERN all'agenzia spaziale agli studenti che fanno l'Erasmo sono i luoghi dove nasce questo consenso democratico terzo passaggio non qualunque Europa un'Europa che è per lo sviluppo per la giustizia sociale per la democrazia per il consenso questa Europa non qualunque quindi l'ultima parte anche della mostra non qualunque Europa ma è un'Europa che sia lo sviluppo politico anche con partiti politici che abbiano dimensioni europee di questo spessore noi in questo meeting volendo batterci perché la nostra sia una presenza non sia una cosa egemonica vogliamo anche avere una politica alta come diceva Enrico Letta una posizione alta una posizione che non è finita sul particolare del nostro Stato ma ha questa dimensione che è la dimensione del presente e del futuro grazie arrivederci